Piano, 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 camminare. Piano, ecco ragazzi, mi presento mia futura moglie, è molto emozionata ragazzina, siamo tornati giovani, ecco, 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 ecco. Piano, ecco, 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 ecco. Piano, ecco, 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 ecco. Piano, ecco, 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 ecco. Se una va di scrutta, c'è l'altra. Certo. Vedervi tutti. Anzi aperti, metti in diritta. Non lo sappiamo, non lo sposti in mezzo. Ecco, 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 ecco. Tutto a posto? No, 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 aspetta. Anzi, aspetta che sia scherzo. Ecco, 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 ecco. Ragazzi, chi vuole fare delle foto così nell'attuale situazione italiana? Quindi io aspetto al barco questo governo, ma la mia speranza era di votare immediatamente subito e non perdere tre mesi di tempo di votare ancora. Certo, perché perdere tre mesi quando l'Italia è considerata uno zerbino dell'Europa per me non va bene. Chi vince Treviso? Chi ha tirato un marco? Oh! Io spero di vincere al primo colpo. Ecco, perché adesso i cittadini hanno un rimpianto di Gentilini. Ma io mi metto dietro le spalle del candidato sindaco. Ma io credo che il Vangelo secondo Gentilini sia stato sposato dal candidato sindaco adesso. Sì, io sì, io mi metto il Vangelo.